Cosa ci raccontano questi scatti? Questi scatti sono il documentario storico di quella che fu l'inaugurazione del 1967. Però non sono solo un documentario così, sono le storie dei grandi pionieri della sanità. In quel periodo non c'erano ospedali strutturati in Calabria e fu scelta Catanzaro come ospedale regionale. Ma queste foto raccontano anche le storie dei grandi medici che ha avuto la possibilità di apprezzare non solo la città di Catanzaro ma anche la regione Calabria. Ci sono medici come il grande Bassi che fu la scuola di chirurgia in Calabria. Ci sono le storie di Carlo Delellis, ci sono le storie del dottore Alberti. Poi il dottore Alberti ricordano tutti che si cimentò anche in politica, fu presidente della commissione sanità al Senato. Ci sono le storie di Docimo, ci sono le storie del dottore Greco che fu il primo in Calabria a creare la rianimazione. Ci sono tante e tante storie che la mia associazione ha voluto dedicare non solo alla città ma all'intera regione Calabria. Credo che questo evento sia un evento pregnato non solo di storia ma di passione e spirito di appartenenza. L'associazione Catanzaro Capitale dell'amico Giuseppe Pisano ci ha proposto questa mostra fotografica. Noi non potevamo girarci dall'altra parte, attraverso la delega che io ricopro, quella delle politiche giovanili, ho pensato che sia importante. Abbiamo concesso il monumentale San Giovanni, voglio ricordare che la mostra si svolgerà il 24, 25 e 26 febbraio nel monumentale San Giovanni. Abbiamo dato spazio nel posto più importante dal punto di vista culturale e dispositivo della città. Credo che i giovani debbano capire e comprendere che questa città vive anche attraverso quella che è la sanità, la salute, la cura delle persone. E non può prescindere da quello che è ovviamente l'ospedale. Sì, una mostra che aprirà il 24 nei locali del San Giovanni, a dimostrazione che il San Giovanni rimane quindi come aria espositiva, ma soprattutto una mostra per ricordare la grande tradizione del nostro ospedale civile, la grande professionalità che tutti questi anni hanno dimostrato i nostri medici. Quindi un ricordo a questa struttura che è stata costruita 50 anni fa e che ha dato veramente lustro alla città di Catanzaro nel campo della medicina, della chirurgia, nel campo della sanità. Oggi è un ospedale che è stato da poco ristrutturato al suo interno, ma aspettiamo anche questo progetto per quanto riguarda la fattibilità per il nuovo costruendo ospedale, perché abbiamo bisogno di avere una struttura che sia antisismica per eccellenza. Quindi aspettiamo questo progetto che partirà da qui a pochi giorni e speriamo di avere finalmente il nostro ospedale nuovo per dare soprattutto un sostegno forte alla grande professionalità dei nostri medici che hanno dimostrato tutti questi anni. Speriamo che continui.